Vorrei farvi gli auguri partendo da un brano della scrittura, l'antica scrittura, che annuncia la venuta di Gesù, che dice il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Com'è possibile che il lupo e l'agnello pascolino insieme? Sì, la venuta di Gesù, sebbene accolta nella sua profondità, del messaggio che è Gesù, che si fa uomo, per farci uomini, uomini che a volte dentro abbiamo un po' di violenza come il lupo, invece no, ci dice guarda, sì, il cuore buono è come un agnello che è mite, ecco allora facciamo sì, facciamo nascere attorno a noi Gesù, il Vangelo di Dio per noi, e allora il lupo e l'agnello, che vivono anche dentro di noi, pure nelle nostre relazioni quotidiane, ecco impareranno a vivere insieme. questo è il Natale, mettiamo al centro la vita Gesù, Vangelo di Dio.